musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi guarderemo insieme la missione di cercare le lettere che formeranno la parola nom la prima ragazzi ci chiede di cercare la lettera o ad ovest di pleasant park come vedete ragazzi di parco pacifico non dobbiamo andare a parco pacifico ma dobbiamo recarci ragazzi in questa casa mentre ci arriviamo non dimenticatevi di mettere un bel like di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento la lettera o ragazzi si trova esattamente qua è è qua da qualche parte è qua da qualche parte aspetta un momento forse addirittura fuori forse addirittura fuori eccola qua ragazzi prima lettera presa per la lettera s invece ragazzi la seconda della scritta dobbiamo essere nel bunker di bosco blatterante è molto semplice ragazzi basta solo aprire questa porta e guardate un po qui per terra ragazzi c'è la seconda lettera lettera s presa la lettera m invece ragazzi a sprofondo stantio è un po più difficile ma la troviamo ugualmente come vedete ragazzi siamo nel quadrato più in basso di sprofondo stantio dobbiamo entrare se non ricordo male qui dove c'è il chest ed ecco ragazzi la lettera m vi faccio vedere un po da fuori meglio dove siamo insomma quello è il centro e noi siamo qua lettera m presa per la l'ultima lettera la lettera n ragazzi quella sotto un lago ghiacciato dai è abbastanza facile basta solo andare nell'unico lago ghiacciato che è presente nella mappa dove c'era il vecchio negozio del campeggio lo chiamavamo quando c'era il boschetto bisunto spacchiamo è meraviglioso questo deltaplano spacchiamo qualsiasi punto del tetto scendiamo dobbiamo trovare esattamente l'angolino dove c'è la quarta lettera lettera n presa e siamo arrivati ragazzi all'ultima fase della sfida quella di cercare la lettera non prelibatezza in poche parole in italiano dovremmo andare ragazzi nel 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 centro del centro commerciale dentro il centro commerciale io non credo che sia questa quella che ci interessa no invece è questa ragazzi basta semplicemente visitare quella davanti ed ecco che abbiamo completato la sfida un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao